Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove per il traffico intenso ci sono code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Sulla variante di Valico, rallentamenti per un incidente avvenuto tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. In A11 per lavori di ripristino delle linee di giunto del Cavalcavia stanotte in orario 22.6 sarà chiusa l'uscita di Monte Catini provenendo da Pisa. Per la viabilità cittadina a Firenze a causa di interventi di rifacimento provvisorio della pavimentazione in piazza dell'Unità Italiana sono previsti dei divieti di sosta a tratti fino al 16 novembre. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani buon viaggio! Grazie per la visione!